Eccoci qua con la piccola Chloe di 6 mesi di età corretta, ma lei è nata a 32 più 5 settimane prematura ed è una bimba che la cui mamma pedagogista ha iniziato subito la parte di percorso di sviluppo motorio From Zero to Hero e oggi che ha 6 mesi di età corretta sta veramente facendo un percorso che è fantastico sia a livello motorio sia a livello posturale. Guardate come si sorregge bene, queste gambette iniziano ad agio-dagio a sostenerla pienamente, si sta iniziando a sostenere perfettamente, ad arcuare bene la schiena per dare agio alle curve vertebrale sta iniziando a muoversi per preparare la fase di gattonamento, siamo a 6 mesi appena prima di Natale continuare il suo percorso From Zero to Hero e gattonerà molto probabilmente prima di Natale perché abbiamo scommesso una pizza. In questa fase la cosa più importante è la parte del grip a livello delle cinocchia è la parte di consapevolezza motoria a livello del ginocchio dove il bambino si deve sostenere per potersi mettere a 4 zampe e poi gradualmente nell'arco del mese successivo coordinarsi tra arti superiori e arti inferiori e partire a gattonare vediamo chi vincerà la pizza tra un mesetto at ok ok no changes